grazie sì mi chiamo Matteo no qua la protagonista è solo una ed è Elena è il nome da portare in giro per le strade dell'Emilia Romagna da qui al pomeriggio Elena mi ero preparato un discorso ovviamente non vado a ripetere perché la maggior parte della gente è in piedi e quindi taglio quello che già avete sentito vi offro solo l'idea di Emilia Romagna che la Lega e il centrodestra hanno diversa non dico superiore lasciamolo a quelli di sinistra l'istinto di superiorità che solo loro sono belli, intelligenti, accoglienti, generosi, solidali sanno leggere e scrivere abbiamo delle idee diverse io lo dico molto banalmente e a differenza di altri che a sinistra a parte invertite usano le disgrazie anche per fare campagna elettorale qua quando si tratta di avere l'alluvione c'è da rimboccarsi le maniche e da dare una mano al popolo emiliano romagnolo che sono due popoli straordinari però domenica si sceglie fra l'importanza della vita della nutria e l'importanza della vita dell'uomo e della donna con tutto rispetto non tocchiamo gli argini perché leggevo che secondo anche l'autorità di Bacino del Po perché se tocchi gli argini ci sono delle tane che sono anche di 4 metri delle povere nutrie e poi però se tu non disturbi la povera nutria disturberi il povero contadino e il povero cittadino emiliano romagnolo anche perché il governo i soldi per sistemare i fiumi li ha mandati adesso che la regione li spenda perché altrimenti non possiamo farlo uno e l'altro però e a proposito di acqua e di incompiute e dei signori del no perché qua dentro c'è il popolo del sì giusto per non stare solo a Bologna da un secolo i contadini i cittadini aspettano la diga di vetto con questo governo abbiamo finanziato la diga di vetto che serve anche per dare acqua fermarla quando è troppa e farla uscire quando non ce n'è diritto alla mobilità domenica si hanno due scelte da una parte una Bologna e una regione difficilmente vivibile con ZTL e Autovelox ovunque dall'altra parte il diritto al lavoro il diritto alla mobilità una volta la sinistra aiutava i proletari quelli che avevano di meno non è che se uno ha la macchina vecchia di dieci anni se la tenga vecchia per il gusto di averla vecchia se gli impedisci di entrare in città a lavorare danneggi un lavoratore e una lavoratrice se l'Autovelox e lo dico da ministro perché finalmente settimana prossima arriva per l'approvazione definitiva il codice della strada per salvare vite se l'Autovelox è messo in un punto di alta incidentalità dove c'è una strada una scuola un ospedale una strettoia è sacrosanto ma se l'Autovelox è usato a Bologna ed intorni per fare cassa sulla pelle dei lavoratori allora quello è un altro paio di maniche casa scome ho anche la delega la casa da una parte c'è una sinistra che coerentemente dove governa in Emilia Romagna piuttosto che in Toscana dice che le case popolari devono essere distribuite senza nessun criterio e senza nessuna priorità laddove governano la Lega e il centrodestra visto che non ci sono case per tutti quelle che ci sono vanno date prima agli italiani e poi al resto del mondo prima ai bolognesi e poi al resto del mondo e possibilmente non agli spacciatori però questo è un altro capitolo le istituzioni oggi c'è stato un tavolo per l'autonomia a Roma autonomia fa rima con merito ho sentito Elena che parlava di merito di competenze non è vero che uno vale uno bisogna aiutare quelli bravi bisogna far lavorare quelli bravi non quelli con la tessera della CGL in tasca molto semplicemente occorre il merito e oggi mi spiace perché a Roma c'erano i governatori della Lombardia del Veneto del Piemonte della Liguria per chiedere con orgoglio di gestire da parte della regione alcune competenze che adesso lo Stato non riesce a gestire ebbene a me quelli che mancano di parola quelli che cambiano faccia quelli che cambiano bandiera non piacciono mai fino all'altro ieri la Schlein e Bonaccini erano i più autonomisti degli autonomisti e adesso sono diventati centralisti perché non si fidano di voi chi è contro l'autonomia vuol dire che non si fida dei suoi cittadini io mi fido degli emiliani e dei romagnoli la regione Emilia-Romagna può gestire a livello locale meglio alcune competenze di quello che lo Stato oggi non riesce a gestire e poi l'ha accennato Elena e la ringrazio il tema della famiglia io sono per la libertà di amare per tutti qua dentro ci sono centinaia di donne e di uomini unici al mondo non mi interessa se ci sono eterosessuali omosessuali bisessuali pansessuali polisessuali ognuno a casa sua fa quello che vuole perché siamo in un paese libero e quindi il diritto all'amore è sacrosanto ma è altrettanto forse ancor più sacrosanto il diritto del bambino a venire al mondo con una mamma e un papà e a essere adottato da una mamma e da un papà perché senza la mamma e il papà il mondo finisce e rispettando le scelte di vita di tutti ringrazio quelle straordinarie esperienze che ci sono in tutta Italia e sono volontariato vero e ci sono anche in Emilia e in Romagna ringrazio i centri aiuto alla vita che aiutano tante mamme a far mettere al mondo i loro bambini superando le difficoltà economiche un'altra scelta di campo opposta opposta una croce sul simbolo della Lega o sul simbolo di un partito del centrodestra una croce sul PD domenica da questo punto di vista è opposta io ieri ero insieme ai 350 ragazzi che stanno cercando di uscire dal tunnel della droga nella comunità incontro di Don Pierino Gelmini ad Amelia così come sono stato poco tempo fa a San Patrignano a guardare negli occhi ragazze e ragazzi che anche a 14 anni rischiano di bruciarsi la vita ebbene in Parlamento e il voto di domenica è una scelta di campo o di qua o di là non ci sono vie di mezzo legittimamente PD e 5 Stelle e partiti di sinistra hanno tante proposte di legge in Parlamento che chiedono di vendere liberamente in tabaccheria alcune droghe chi sceglie il centrodestra chi sceglie il simbolo della Lega fa una scelta precisa non permetteremo mai che lo Stato diventi spacciatore chi sceglie il centrodestra e la Lega sceglie la lotta ogni genere di droga ovunque senza sé e senza ma e poi lo dico la signora che mi ha visto entrare stefet con la cravata rossa era per evitare di essere bloccato dai sinceri democratici di rifondazione comunista che c'erano là che magari non hanno capito però io fino alle prossime elezioni americane mi tengo questa cravata rossa qua perché c'è stato troppo gusto c'è stato troppo gusto martedinotte a guardare le facce che dal sorriso sono passate alla depressione quindi e immagino in alcuni circoli rossi dell'Emilia erano entrati con l'Ambrusco il martedì sera e sono usciti con la coca cola mercoledì mattina con un po' di malox però una riflessione su questo ci tengo a farla perché non è che cambi la vita a uno di Piacenza a uno di Ravenna o a uno dell'Appennino Reggiano se vince Trump o vince la Harris però su una cosa cambia la vita su una cosa perché ho sperato con tutto me stesso che andasse così nonostante i cantanti nonostante Madonna Eminem George Clooney Richard Gere e chi più ne ha più ne metta e Lady Gaga e ho letto che Robert De Niro aveva detto se vince Trump me ne vado preparatevi ad accoglierlo a Bologna uno più uno meno voglio dire lo mandiamo con Landini dai così vanno d'accordo mi vedo mi vedo al bar De Niro e Landini però su una cosa seriamente può cambiare la vita dei nostri figli può cambiare la vita di tutti gli studenti che Elena ha visto crescere maturare diventare uomini diventare donne e sarebbe il regalo più grande che la democrazia americana che Trump e i repubblicani potrebbero fare a tutto il mondo penso che sia l'unico che possa porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina che possa mettere a un tavolo Putin Denzelensky e far tacere missili e cannoni e cambia la vita per l'Emilia Romagna quanti imprenditori emiliano romagnoli se si riaprono i commerci se si riaprono i confini se si riapre al turismo e alle esportazioni cambia la vita e viva la pace da questo punto di vista e non l'hanno portata ai democratici e conto che ce la portino i repubblicani vado a chiudere perché poi più che dircela fra di noi dobbiamo andare fuori visto che la metà della gente se si votasse oggi non andrebbe a votare le ultime due riflessioni sui fatti di cronaca entrando qua è arrivata a tutti noi sul telefonino all'agenzia di un ennesimo pronunciamento del tribunale di Roma sezione immigrazione che per un'altra volta impedisce non al governo non a Salvini a Piantedosi a Lameloni impedisce all'Italia di espellere alcuni immigrati irregolari in questo caso egiziani e bengalesi ora la premessa d'obbligo per Matteo Salvini e per chiunque della Lega del Centrodestra è che fratelli e sorelle che sono arrivati da lontano sono qua con i documenti in regola pagano le tasse e portano rispetto alla nostra storia e alla nostra cultura siete i benvenuti a Bologna e in Italia il problema non potrà mai essere il colore della pelle o il posto dove il buon Dio ti ha fatto nascere però e io ormai sono convinto di una cosa non solo quei pochi giudici e lo ripeto pochi giudici sono 9.300 i giudici in Italia la stragrande maggioranza di questi 9.300 domani mattina si alzano presto e rischiano anche la loro vita per combattere mafia camorra in drangheta per fare delle sentenze libere e mettere in galera i delinquenti ma su 9.300 te ne bastano 30 40 e 50 che non vanno in ufficio in tribunale per applicare le leggi ma vanno in ufficio in tribunale per portare la loro ideologia che è la loro bandiera rossa che è la tessera del partito democratico l'immigrazione incontrollata il sistema dell'accoglienza di massa costa agli italiani a voi e a chi ci sta seguendo online 2 miliardi di euro all'anno e nessuno mi toglie l'idea che quelle sentenze servano alle cooperative rosse per continuare a fare soldi sulla pelle di questa gente 2 miliardi di euro all'anno e fanno comodo a tutti la domanda è questi sette clandestini egiziani e bengalesi che erano stati portati in Albania come da legge del governo per essere espulsi e che per colpa di questa sentenza torneranno in Italia liberi di camminare per Bologna per Parma o per Ravenna ma se uno di questi sette settimana prossima compie un reato se uno di questi sette spaccia scippa stupra o ammazza chi ne dovrebbe rispondere? voi o chi lo ha lasciato libero? è arrivato il momento di approvare la separazione delle carriere e la responsabilità civile personale dei giudici che sbagliano sbagli paghi però di tasca tua non a carico dei cittadini italiani metti in galera la persona sbagliata paghi di tasca tua liberi la persona sbagliata che lui ammazza paghi di tasca tua e quindi è un mondo sereno non è un mondo e poi chiudo con una riflessione su Bologna partendo dalla considerazione che l'impegno della Lega Diego e del centrodestra però è quando vinciamo da lunedì pomeriggio di portare in regione a Bologna però i diritti di tutti i cittadini emiliani e romagnoli non esiste solo la ZTL di Bologna radical chic esiste Piacenza esiste Parma esiste Reggio esiste Modena esiste Ravenna esiste Forlì esiste Rimini quindi esiste la montagna esiste la pianura non ci sono emiliani di serie A e emiliani di serie B questo lo dico in riferimento al sindaco Lepore con cui io da due anni da ministro sto collaborando come collaboro col sindaco di Ravenna De Pasquale che mi auguro che continui a fare positivamente il sindaco di Ravenna così almeno non dovranno andare elezioni anticipate a Ravenna però c'è in politica e nella vita c'è anche la dignità c'è anche il buon gusto c'è anche il rispetto io sono arrivato un'oretta prima a Bologna per andare riservatamente senza telecamere senza fotografi a incontrare in questura i dieci ragazzi del reparto mobile di Bologna che sono stati assaltati da 300 criminali rossi poi si è aperto il dibattito animalistico ma fra zecche e zanzare a me interessa relativamente però ho parlato il ragazzo che comandava quel reparto dieci persone di cui uno in macchina a fare l'autista con 300 energumeni armati di sasse bottiglie e bastoni il ragazzo che comandava questa squadra è un padre di famiglia con tre figli e pensate dell'età di quei figli di papà che erano là a cercare camicie nere che non ci sono perché le uniche camicie nere rimaste sono sotto le loro camicie rosse perché gli unici fascisti rimassi sono quelli dei centri sociali ecco io mi sarei aspettato dal sindaco di una città straordinaria come Bologna Bologna è bella e quando guardi San Luca e quando e quando cammini sotto i portici e quando pensi a come parole violente rivolta sociale fascisti padroni capitalismo c'è ancora sotto i portici di Bologna il sangue di qualcuno che ha lasciato la vita per mano di quei criminali che hanno il comunismo e la violenza nel sangue ti è piaciuto il video? iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella